ah papà papà stavo pisciando e mi sono bella tutta la faccia la mattina quando ti svegli devi stare molto attento perché quel l'aggeggino lì è pericoloso buttaci su dell'acqua fredda e perché figlio? funziona si sta andando giù bravo figliolo grazie papà grazie che figata figlia papà papà mi sono riuscito stamattina che avevo le mutande bagnate ce l'ho dato il signore io che credo che eri gay cosa vuol dire gay? tranquillo un giorno te lo spiegherò vuol dire che adesso sei pronto a seminare le ragazze sì le femminuzze della tua classe tranquillo un giorno te lo spiegherò tranquillo tranquillo vado e torno a studiare mamà 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 che succede? tutto rosso mamma ma è una cosa naturale questo mi fa male la parte lo so lo so figlio lo so è una cosa naturale sono cose che succedono a una certa età ma non mi succedeva prima eh lo so queste cose sono le prime volte ti arriveranno una volta al mese sì sì ma a volte durano cinque o sei giorni così cinque giorni così sì prenderei qualche pillola per il dolore se no il resto va bene ma io non li voglio eh lo so anch'io non li voglio però ma ma arrivano anche a me mamma 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 mamma, ci rimane tutte quelle cose Non ce li ho anch'io, non ti preoccupare. Ma tu non è così. Eh, lo so, ma è vero che tu gli sei risultato molto in fretta. E' padre. Eh, oh, dai. Sì, la corsa di te ce l'ha già del... Non lo vuoi avvenire. No, a me veramente non siamo strati.